Bastoni, coltelli, pugni e calci, una spedizione punitiva in piena regola che non ha lasciato scampo a una famiglia di arre che ha visto improvvisamente entrare in casa una banda di violenti che si sono accaniti su uomini, donne e ragazzi. Tutto si è svolto in pochi minuti e le vittime non hanno avuto nemmeno il tempo di reagire. Obiettivo del ride, una casa di arre abitata da una famiglia di origine nomade. In 5 o 6 uomini si sono presentati alla porta di casa armati e incappucciati e hanno subito iniziato a colpire tutti i membri di quella famiglia. Armati di coltelli e bastoni, dopo qualche offesa iniziano a colpire le 5 persone che vivono in quella casa della bassa padovana. Il commando infatti ha aggredito padre, madre e i tre figli tra i 27 e i 31 anni. Poi, così come sono arrivati, gli aggressori sono fuggiti a piedi facendo subito perdere le loro tracce nelle vie limitrofe. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme e della stazione di Conselve che hanno iniziato le indagini e i sanitari del suo M118 che hanno soccorso le vittime trasportando i feriti all'ospedale di schiavonia. Il capofamiglia e il figlio hanno riportato ferite da taglio sulla schiena e al torace. Alle donne sono state riscontrate frattura e trauma cranico. Le prognosi vanno dai 5 ai 30 giorni, ma per uno di loro, ferito al torace, la prognosi è riservata anche se non corre pericolo di vita. I carabinieri non hanno ancora identificato gli aggressori e stanno ricostruendo l'accaduto per accertare tra l'altro i motivi del ride. L'abitazione è ora sotto sequestro e sembra che i componenti della famiglia non abbiano fornito ai militari elementi utili per le indagini.